Ciao a tutti ragazzi, sono NDD e bentornati sulla Monster Allora, stavo finendo qui di mettere i vetri Ho finito di mettere i vetri, mi mancheranno 2-3 pezzi Tipo, allora mi manca questo e un vetro qua sotto Così, esatto Poi, mi servono 4 vetri qui, in realtà non me ne servono 4, ma me ne servono tipo 3, se non erro Mi pare 3 Perché dovrò fare uscire la corrente da qua sotto No, aspetta, che 3, che diamine dico Qui che c'era? I tubi? No, no, non c'erano tubi, i tubi stanno lì No, non va bene allora, perché a me mi serve arrivare qui sotto Se tu... ma porca di quella vecchia... Vecchiaccia malefica Se a me mi serve arrivare lì sotto Non ci posso arrivare lì sotto io Devo passare ancora più sotto Devo passare ancora più sotto, quindi devo passare qui sotto Devo passare qua sotto, sì Però i tubi che mi servono per passare qui sotto sono di un altro tipo Quindi questo qui non mi serve Questo qui non mi serve perché dovrò utilizzare... Allora, leviamo anche quelli Levo questo, così salgo Allora, dovrò utilizzare tubi un po' più potenti di quelli Di questi qui della... Dove diavolo sono? Questi qui Thermal expansions Comunque servono questi qui Thermal expansions Allora Dove diavolo che erano? Eccoli qua Allora Item duct No, eccoli qui questi Che portano corrente Energy Conduit Eccoli qui Questi portano 400 Questi 80 Questi 400 E questi 1000 Ora, questi 1000 però Che vuol dire? Aspetta un secondo No, aspetta Fammi capire Cioè, praticamente devo mettere questi Allora, devo mettere uno normale Con della redstone E dell'invar ingot Dell'invar Invar maledetto Invar di merda Il maledetto Invar Che si fa due iron E un nickel Allora Fermi, eh Fatemi Mette a paro qui Fatemi mettere a paro A parte il fatto che io qua ho la tarta Da fare mettere in sesto Prima che sia notte Prima che sia notte Volevo attappare i buchi Qui Ah, ragni malefico Schifoso Mori Volevo attappare il mega buco E con questi 9 Non ci famo un emerito Fiasco Però Intanto magari Aumentiamo Vai giù, vai giù Vai giù Non ci va Ehm Volevo intanto Attappare qui Che a quanto pare Servono Un bel po' Di pezzi Di cobblestones Ehm Intanto attappiamo lì al volo Regà Perché sennò qua Se la andiamo A Bruciare Ok Non so quanti ne servono Però Io ne ho presi tanti Perché Non so quanti Ne possono Servire Ok L'unica cosa Mi devo ricordare Non scavare qui Per terra io Perché se scavo qua Sono letteralmente E completamente Fottuto Non esplodete Vi stacco le braccia Se esplodete Vi stacco le braccia Anche se non ce l'avete E mi devo ricordare Non far esplodere Creeper Da ste parti Perché se no Qui rifiamo il buco Ma quanti cacchi Ne so se il video Ok Questo è mio Mangiamo E mettiamo Un'altra Mettiamo la tartola Da qualche parte Qua Dato che qui C'era già Una sorta di buco Io direi di poggiarla Proprio qua Che ne panzate Sì sì Poggiamola qua Ma sti cacchi Via questo Questo Muori La poggiamo Qua Allora no Aspettate Lì ho fatto già Il buco Io con L'acqua Ho fatto il buco Io con La poggiamo Qui Eh sì eh Qua è perfetto Dammi qui Metti qua A fianco Dammi qui Metti qua Unisci i due Perfetto Sto mandando corrente Dammi qui Metti qua sopra Ottimo a fare Ora Tu Eh Cara amica Querry Questo va bene così Questo va bene così Questo non me ne fotte Questo non me ne fotte Caro amico Querry Tu adesso devi Querry Querrare Querrare Querricchiare Querry Querry lavorare Più carino Querry lavorare Se la mucca Si Se la pecore Si leva Dal cacchio Evita di massacrarti Pecorella Smarrita Ok Ti ringrazio Ok Perfetto Torniamocene A casetta A casetta nostra Così Andiamo a fare Il restante Pezzi Qui A parte vorrei Anche Ecco Dormire Perché Sapete com'è Ok Vorrei dormire Poi Mi metti a posto Tutta questa roba Che non mi serve Più una ceppa Mazza quanta cobra È stato non sprecato Per far due Cazzo De buchi E noi dobbiamo fare In realtà Questi cavi qui Io direi Da fare anche Quelli da 400 Tanto Allora L'invar Dovrei averlo Fatemi un po' Ricordare Se non avevo Se avevo L'invar Iron Allumi Scusate Mi sa che facciamo Prima fare così Invar Eccoli qui Invar Un invar Così facciamo 9 nuggets E facciamo il tutto Allora Mi dai 9 nuggets Di questi Poi mi servono I2B Questi qui È ok E una redstone Serviva? Sì Esatto Una redstone Redstone Redstones Redstones Una redstones Eh però faccio Un tubo solo Faccio un tubo solo Se non sbaglio Esatto? Esatto Un tubo solo Non ci faccio Una minchia Devo fare almeno Due o tre tubi Ok No Tre Tre Prendiamo le tre Non si sa mai Tre Ok Mi serve un fottuto Invar Un fottuto Invar Stavo pensando Che a sto punto E dammi qui Che a sto punto Mi conviene far così Mi conviene fare questo Modello qui Mi conviene fare questo Tre redstone Tre tubi E Un invar Ingot E vabbè tanto Ce n'ho uno solo Quindi No Facciamo A modo L'altro Ma Devo Ce l'ho Dove ce l'ho Ce l'ho qui Cazzo sto a fare Eccolo qua Ecco qui E un altro Siamo a quattro Ora Abbiamo fatto Questo tubo qua In realtà Devo fare un altro Perché Devo fare un altro Però mi servono prima I tubi normali Era Lead Redstone E un pezzo Di vetro Che diavolo era Si vetro Allora Lead 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 Scusa Ce l'ho Sfruttiamolo Eccoli qui Due pezzi De lead Un pezzo Di vetro E Poi che altro C'era Sei redstone Sei Redstone Ti ringrazio Ti ringrazio Sei molto Gentile Allora Un pezzo Un pezzo di vetro Due Lead E sei Fottute Redstone Poi Mettiamo Queste sei qui Questi tre Questi sei qui E mi servono Mi serve La redstone 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 Tre redstone Dammi qui Grazie Morto Gentile Mettiamo le tre Redstone Qua E facciamone Altri due Siamo a sei Fufu Siamo a sei Ok 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 Fermi Fermi Luggi Avete Metti a posto Questo Avete Metti a posto Questo E dovremmo Muovarcela Con sei Ora Una volta Costruiti quelli Che portano Molta più energia De quell'arte Normale Se noi li poggiamo Qui così Dovrebbero Fa Dovrebbe Fa Col cacchio Non lo fa Mi dici come Ti faccio Ti faccio Diventare Quell'altro Ancora Non ho ben capito Come Nella crafting Table Non credo Quella normale Vabbè E Poropopo Poropopo Questa sta scendendo Sì Sta scendendo Infatti Dobbiamo sbicarci A fare questa Fottutissima Big Big Reactor Allora Dobbiamo fare questo 4 4 redstone 4 e 4 No Ho sbagliato 4 e 4 redstone Dove portarlo giusto A fare Allora 4 di quelli Che George ha 4 redstone Give me A 4 redstone A 4 redstone Con la Perché Ogni tanto fila 1 2 3 4 E ok 1 2 3 E 4 Ok abbiamo fatto Il flux Mux Sprux Come cazzo Si chiama lui Che ci serve Per l'energia Eh no Qua Bene 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 Ora Questo Dobbiamo trasportare Il qui sotto Ok Dammi un po' Questi E so pochi sei Oh So veramente pochi sei Devo arrivare là Qua E poi lì E sei So pochi Fratello Fratello Sei sono veramente pochi Fratello Sei sono veramente Veramente pochi Allora Questo sta qui Come quello sta qua Dieci sta a uno Come due Sta a sei Allora Via questa Via questa Via questa E via questa Via questo Via questo E abbiamo anche Questi tubi Qui qua però Vabbè Quelli non me ne fotte La minchia Via questi E ok Ora Aridamme Sti tubi E rimettiamoli Vabbè No Posso anche salire Ora No Si posso salire E andrà qua Ok Aridamme Questo qui Aridamme Questo qui E grazie Rimettimi giù La gravel Che mi serve Non lo so A cosa servi Però Serve Ok Posso tornare su Con questi Ora Ora che posso Tornare su Con quelli Me ne sbatto Altamente Dato che Mi servono altri Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Altri Sette Allora Servono altri Sette Quindi Damme Dieci Redstone E Dieci Vedri E Inbar Inbar Che Undici Due Inbar E poi Che altro Serviva Che altro Serviva Per fare Lead E Allora Lead Eccole qui Innanzitutto Ci votiamo Questi Quattro Poi Ci votiamo Tre di Questi Due di Questi E Ok Il vetro Già ce l'ho La redstone Mi serve Redstone Dieci pezzi Sono pochi Facciamo Altre Dieci E andiamo A 20 Ok Perfetto Ora Facciamo Prima I restanti I restanti Eccolo qua Sei Poi Ne dobbiamo fare Sette Di quelli E Mi serve L'inbar Boni Fermi 9 9 18 Ok Eh ma Mi sa che non abbassano Porca vacca Uno P1 Guardate Cristoforo Ma Cristoforo Colombo Con le palle De piombo E un Inbar Solo Cazzo È rimasto Un Inbar Solo Porca Puttana Mi tocca fare Gli altri Inbar Di merda Mi tocca fare Gli altri Inbar Di merda Ok Sette Ne abbiamo Sette Facciamo pure Questi Ho capito 9 Meglio De così Se more Come si dice Roma Allora Via No 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 Questo ne serve Via questi Questi vanno Qua Ok Perfetto Corri fratello Corri 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 Che abbiamo i 9 pezzi Che ci servono Finalmente abbiamo i 9 pezzi Che ci servono Allora Qui 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 E qui Sì Ora Vai bene Ora Vai bene Allora Adesso Da sotto Mi devi fare entrare energia Cioè il blu Perfetto Perfetto Siamo Siamo in ottimo stato Siamo in ottimo Stato Ok Ok Ora Devo andare a recuperarmi Un po' di Stone Che Dovrei aver cotto E anche tanta Dovrei aver cotto Se non erro Corri Fratello Grazie Allora Stone Eccola qua Dammi la metà Questo Do ripete Che devo circolo Qui e lì Me dai la metà E la metà Dov'è? Come qui Allora Ci chiudiamo Intanto qua Chiudiamo Così Qui La lasciamo per ora Aperto Che mi può essere utile Li Lasciamo aperto Che mi può essere utile Qui mi serve Della redstone Per far freddare Servono tre parti Di redstone Devo prendere L'altra redstone Allora Uno di questi Lo lasciamo qua Due li portiamo Che ci servono Per Il nostro amico La nostra amica Querry E Poi 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 Questi due Li lasciamo qui Mi serve Della redstone Per fare Mi servono Mi pare Dieci pezzi Perché Ogni è Ogni è Allora Mi servono Questi secchi qua E ok Andiamo giù Mangiamo Ok Perfetto Intanto che tu Mi fai Qua la nostra Amica Redstone Io metto Qua la nostra Amica Redstone Ok Possiamo anche Chiudere I vetri Dove cazzo Ammessi Ma porca Di quella vacca Io ho portato i su Che mi servivano qua E so un Coglione So un Coglione Non questa Non questa Questa Sono Coglione Sono proprio Un Coglione Ok Qui Mi chiudi con il vetro Grazie Poi mi metti L'altra Redstone Qua Così Grazie Dobbiamo far Freddare Il più Possibile Per freddare Il più possibile Dobbiamo mettere Della Redstone Qui Mi metti i vetri Uno lì E uno qui Perfetto Mi serve un altro Vedo qui E abbiamo Fatto No Ci serve però Quello per fare entrare Quello per fare entrare Fermi Che quello per fare entrare Lo poggiamo là Ok Quello per fare entrare Lo poggiamo qua Cioè Questo qui Big 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 Accessport Eccolo qua Serve un pistone E una cesta Bene Facciamo subito Un pistone E una cesta No Questa No Questa Allora Per il pistone Ci serve Vediamo un po' Se ce l'ho già Pistone No Una cesta ce l'ho E me la dai Poi mi servono Tre pezzi Quattro di questa Un pezzo di ferro E un pezzo di redstone Allora La cesta La cesta No mi serve per dopo Questo 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 E questi Quattro Così Mi fanno il pistone Pistone Cesta E quattro pezzi Di questo Che ne abbiamo Un pezzo di ferro Ok Injet Injet Full No Out Ma In Non out Ma in Che possiamo Letteralmente Poggiarci qui Un tubo Della nostra Basic Logistics Pipes Che ci può servire Per fare Automaticamente Il servizio Da una parte All'altra Sta cosa è Veramente Veramente Figa Allora Adesso Mettiamo La nostra Amica Redstone Anche qua E Dovrebbe Freddare Al massimo Per Esserne Sicuri Dobbiamo Far così Boom E' partita E' partita Ok Ora Sta Offline E E' E' Eject No No Me lo fai Quando dico io Adesso ci serve La nostra Amica Da qua sopra Da qui appunto Dobbiamo inserirli Ora ve lo faccio Vedere subito Guardate come esplodo Con tutta Sta Redstone Faccio un botto Faccio un botto Recame Sta Stavolta Allora Ci serve La Come diavolo Si chiama Porca vacca Iellorite E cazzo Non mi uscivo a voi Ok Ora Facciamo La prova Del nove Lui si è preso La Iellorite Ora Si è preso La Iellorite E vediamo Se sta Deve far uscire Qualcosa Perché altrimenti E' tutto Un cacchio Se vero Se è nulla Attivo Eh Vedete Attiva Boom Core Energy Buffer Sta producendo Energia Ragazzi Sta producendo Energia Ragazzi Vedete Che mantiene Il 400 Grad E intanto Produce Energia Bellissima Sta cosa Mi piace Con la redstone Che cala così Che ti fa Da Ti fa Da tampone Gli fa Da tampone Lui sta Producendo Energia A go Go Regà Ma è fantastica Sta cosa Ma è veramente Fantastica E' veramente Veramente Fantastica E questo E' pieno Quindi possiamo Farne uscire Anche di più Wow Wow Che figata Regà Che figata Così mi piacciono Le cose Così Così mi piacciono Così sono Le cose fighe 398 Sta anche scendendo Di grado Cioè regà Io vorrei insistere Ma Questa cosa E' fighissima Name Mega Reattore Questo non so Se è per Non so se è per Per il fatto Guardate l'energia Che sta andando Sta andando Madonna Che figata Ragazzi Che figata Che gran figata E questo E questo Non sta scendendo Di una virgola E io direi Anche Di fare così Guardate eh Di fare proprio Una cosa Molto Molto Più figa Tu muori Tu muori Non mi interessa Devi morire Eeeh Ma che cazzo Fate Morire Tutte e due Io direi Di fare anche Questa cosa qua Guardate eh A parte che c'è Questo che sta andando Come un fulmine Cioè Devo fermarlo Perché sta bruciando Veramente tutto Sta più a qualsiasi cosa Devo pure fermarlo Addirittura Cazzo mi sa Che ho buttato Cazzo mi sa Che ho buttato Qualcosa di interessante Tutta sta roba Me la frulli Non mi interessa Frulla via tutto Ah Fermo eh Muori sa Muori sa Muori Muori Allora Fermo eh Leva sto tubo Leva sto tubo Porca vacca Figuriamo adesso Che gli metterò Il mega tubo Voglio proprio vedere Che cacchio fa Con sto tubone Vuff Mamma mia Quanto è veloce Regà No è troppo veloce Regà Troppo veloce Non lo so gestire Così veloce Io Troppo troppo veloce Devo mettergli qualcosa Che mi frulla via La roba Perché sta veramente Andando velocissimo Cazzo Oh mio dio Quanto corri Tranquillo Zio Rilassa Di cazzo Quanto core E' impressionante Gli sto dando Il massimo Dell'energia Io sto a dare Guardate Quanto core Che figata Via 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 Ma un po' Dei diamanti no eh Mimichite Trovarmi Granito E Mimichite Devo trovare Il modo Di buttare via Gli oggetti Vedete come si fa Per buttare via Oggetti Che cose devo mettere Per buttare via Oggetti Cioè raga Prima coreva Ma adesso sta andando Veramente Veramente veloce Cazzo Adesso sta andando Veramente troppo veloce Porca puttana Guardate quanto Score Guardate quanto Core Ma pensate se ci metto Anche i marker E creo tipo Una zona Da qui a monculo E da qui a monculo Ma pensate La roba Che mi può Venire a pià Ma proprio così eh Solo per pensarci Per ora Ha tirato fuori solamente Cobblestone Roba Io devo cercare Un modo per buttare via Sta roba E non fai a pià Perché sta veramente A esagerare A cazzo Sta veramente Esagerando Comunque noi ci vediamo In un prossimo episodio Ragazzi Come sempre Sono in DD Mi raccomando Iscrivete Lasciate un commentino Io intanto Questa roba La frullo tutta E niente Spero che Questa cosa Vi sia piaciuta Io non so Quanto sta a consumare Però Perché sinceramente Non sono andato Proprio a vedere Però mi sta Veramente Piacendo Questa cosa Della velocità Così Tutto e tutto veloce Però non so Quanto stia consumando A parte il fatto che Non so Quanta energia Stiamo producendo Sta scendendo Addirittura Wow Pensate Quanta corrente Prende Un coso Mamma mia Ragazzi Che figata Che figata Ve lo dico Veramente La temperatura Sta a posto C'è la Redstone Che Mi sa che si sta Consumando Pieno più No Non si consuma Ormai la Redstone Questa rimarrà Così a vita Dio Che figo Che figo Mamma mia Che figo 39 Prima che finisce C'è qui che voglia Però non so perché Ma facciamo scendere Un po' 350 E carica 350 Carica proprio Ma carica pure veloce Orco Come cazzo Qua veloce Input Gli potremmo Da 400 Uscita 400 Dovrebbe caricare Eh sì E infatti Ah Il massimo Del massimo Ora La Thermal Expansion Thermal Adorebbe avere Quello un po' Più Eccolo Porco 250 Milioni TRF Riceve fino a 10.000 E manda fino a 10.000 Dobbiamo fare L'endorium L'endindirium L'endindirinda Dobbiamo fa Dobbiamo fare L'endindirinda Voglio fare L'endindirinda Ok ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo episodio Come sempre sono in DT Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate un commentino E spero che vi stia piacendo Sta cosa Che a me mi sta veramente Troppo eccitando Sta cosa Ma che cazzo ne so io Ma che è sta cosa figa Ma che è sta figosità Proprio Ma pensate se Il reattore lo fanno Più largo dei due Tutto quant'ora Lo fai più largo di uno E fai due Di questi cosi al centro Due Mega bomboloni Così proprio Io penso che esplodi Comunque ragazzi Iscrivetevi al canale Lasciate un commentino E niente E noi ci vediamo In un prossimo episodio Ciao a tutti